buongiorno proprio del bandito buon lunedì 5 di agosto allora il vate ha parlato ha deciso il modulo che dobbiamo utilizzare la prossima stagione ora qualcuno deve informare velocemente Fonseca il mister il mediocre qualcuno deve chiamarlo e gli deve dire che il vate ha deciso che bisogna giocare col 4-3-3 a lui il 4-2-3-1 non gli piace e lui ha già stabilito che col 4-2-3-1 non va bene non si può giocare col 4-2-3-1 che Fonseca se vuole insomma Fonseca se vuoi che parla un po' bene di te se vuoi che parla un po' bene di te devi fare il 4-3-3 perché se no proprio lui non può parlare bene di te capito perché tu sei un mediocre non sei un vincente va bene adesso analizziamo un po' di cose un po' di cosette e un like al video se vi va iscrivetevi se vi va campanella per le notifiche per ricevere il video se vi va è tutto gratuito e insomma sempre che vada bene al vate perché se va bene al vate ok se non va bene al vate sono cavoli amari sono cavoli amari poi allora innanzitutto scudetto caso fortunato un paio di piferi scudetto caso fortunato sciacquati la bocca quando parli di scudetto caso fortunato perché al fronte a fronte dell'errore di Radu ci sono gli episodi forse più clamorosi della storia del calcio ne faccio alcuni esempi così ma proprio i primi che mi vengono in mente il fallo da rigore clamoroso di Ranocchia su Belotti l'incredibile gol di Messias annullato per un fischio dell'arbitro mentre Messias sta mettendo la palla in rete il fuorigioco geografico di Giroud la mano di Udoghe quindi un milanista che definisce un caso fortunato lo scudetto 2022 del Milan prima di parlare del Milan si dovrebbe sciacquare la bocca altro che caso fortunato caso fortunato e poi e poi cioè noi dobbiamo stare alle regole che detta uno che mi definisce caso fortunato il lo scudetto del 2022 adesso sveglio tutti perché mi sto mi sto veramente alterando ma devo stare calmo quindi scudetto caso fortunato sciacquati la bocca onesto allenatore è un onesto allenatore è un mediocre è un mediocre ha già stabilito che che è un mediocre che non è un vincente perché lui vuole solo gli allenatori vincenti quindi gli allenatori vincenti sono quelli sono solo quelli che vengono presi dalle grandi squadre e Gasperini non si può definire un allenatore vincente e ma li definiamo bravi o vincenti no perché se no Gasperini non lo possiamo definire vincente ma possiamo definirlo bravo visto che raggiunge tutte ogni anno in ogni stagione l'obiettivo massimo cui la sua squadra può aspirare come lo definiamo quell'allenatore non lo possiamo definire vincente perché l'hai deciso tu che Gasperini non è un vincente per me per i risultati che ottiene Gasperini è uno stra vincente uno stra vincente molto più vincente del tuo conte molto più vincente perché con dei mezzi a disposizione molto inferiori del tuo conte e Gasperini non sbaglia una stagione a differenza del tuo conte quindi vincente non vincente e chi lo stabilisce chi stabilisce che Gasperini non è un vincente e conte un vincente lo stabilisci tu hai emanato le tavole le regole del gioco e poi tutti questi tutti questi giudizi uno un mediocre uno un incapace uno un vincente uno un perdente uno ma scendi dal piedistallo ma scendi da quel piedistallo scendi scendi dal piedistallo caso fortunato sarai tu un caso fortunato non lo scudetto del Milan allora allenatore vincente l'abbiamo messo da parte Fonseca scelta mediocre e l'acqua potabile lui è abituato a champagne lui è abituato con lo champagne l'acqua potabile beh l'acqua potabile serve per vivere e alla portata di tutti tutti possono bere l'acqua potabile quindi benvenga l'acqua potabile benvenga l'acqua potabile e pioli fango definito fango pioli è arrivato secondo l'anno scorso pioli e con una squadra un mercato definito ridicolo e io definirei non completo sapevamo tutti che ci mancavano un paio di giocatori un paio di uomini lo sapevamo tutti lo sapevamo tutti nessuno mi ha detto che quella squadra era perfetta eppure eppure siamo arrivati secondi e siamo stati destabilizzati da quelli come voi da quelli come te che a gennaio hanno cominciato a sparare bordate cannonate all'allenatore mettendo probabilmente in difficoltà l'allenatore anche nello spogliatoio anche nello spogliatoio nel rapporto con i giocatori perché poi le partite con la roma il distacco tra la squadra allenatore è sembrato evidente ma qualcuno a gennaio nel mese di gennaio aveva cominciato colpioli out e fare tutti i giorni tutti i giorni il conte in il conte in pioli out e conte in pioli out e conte in questo è il vostro modo di aiutare la squadra questo è il vostro modo di aiutare la squadra quindi rispetto per mister pioli che ci ha fatto vincere uno scudetto tutt'altro che fortunato tutt'altro che caso fortunato e ricordo che siamo arrivati secondi l'anno scorso in semifinale di champions due anni fa mercato scriteriato ecco non era ridicolo era scriteriato mercato scriteriato ma tu l'hai visto giocare pulisic ma tu ne capisci di calcio l'hai visto giocare pulisic ma e secondo te renders love to chic il ciukweze che probabilmente vedremo quest'anno e cos'hanno di scriteriati è stato un mercato non completo non scriteriato perché poi metti metti d'accordo con te stesso perché se è stato un mercato così scriteriato e allora quali sono le così clamorose colpe di pioli tanto da definirlo fango che ci ha portato al secondo posto quali sono queste colpe di pioli quindi la colpa era del fango di pioli o del mercato scriteriato evidentemente che ha dato una squadra scriteriata mettiti d'accordo con te stesso e poi visto che l'hai fatto tu con me i commenti questo voglio leggere dopo san siro vuoto nelle ultime due spetta perché questa è bella dopo san siro vuoto nelle ultime due partite di campionato hai visto san siro vuoto nelle ultime due partite di campionato tu sicuramente non c'è questo è poco ma sicuro tu hai scritto questa cosa sicuramente non c'è si troveranno san siro vuoto anche contro il torino e lo vedremo amico lo vedremo se troveremo san siro vuoto anche contro il torino il 17 è qua lo vedremo tu sicuramente non ci sarai questo è poco ma sicuro tu sicuramente non ci sarai né contro il torino e nelle altre partite tu sicuramente non ci sarai oltre a milanello vuoto il giorno del raduno e quindi vuoi scommettere con me che prima che inizia il campionato ci sarà una bella adunata a milanello salutare la squadra vuoi scommettere con me ma tu non ci sarai neanche lì sicuro come loro tu lì non ci sarai caro amico che è scritto il commento amico suo non amico mio e poi le regole le regole serve il 433 mister muoviti a fare il 433 perché altrimenti da acqua potabile torni a essere fango anche tu ma ci vuole un attimo guarda che è questione di un attimo cioè da acqua potabile a fango è un attimo mister adeguati e fai subito questo 433 perché sennò questi si incazzano e poi lui detta le regole le tavole della legge tu sei fuori da acqua potabile torni a essere fango emerson royal è una pippa ok ragazzi se hanno deciso che è così e così deve essere cosa vi devo dire io hanno deciso che è così e così quello che dice la tavola bisogna rispettarlo e abra è un mediocre ok passiamo giusto così velocemente all'analisi tattica giusto per e quindi noi non possiamo giocare col quattro due tre uno mister hai capito non puoi giocare col quattro due tre uno questo cosa significa che se anche dovesse arrivare fu fanà e quindi fare quello che abbiamo detto tutti andava fatto no la punta il difensore l'esterno destro anche se è una pippa il difensore destro anche se è una pippa per le tavole della legge e fu fanà quindi se dovesse arrivare fu fanà non va bene lo stesso perché non facciamo il modulo che va bene a chi ha scritto le tavole della legge cosa dovremmo fare fateci capire cosa dovremmo fare facciamo delle liste apposta e per per la serie a perché bisogna adeguarle alle vostre alle vostre idee dobbiamo vendere qualcuno dobbiamo vendere reiner reinders dobbiamo vendere l'osso c cosa dobbiamo fare fateci capire perché fu fanà e reinders non possono giocare vicini davanti alla difesa non lo possono fare è vietato dalle tavole rendersi nazionale gioca così ha giocato così tutti gli europei rendersi quindi chi ha stabilito che non è possibile chi ha stabilito che c'è più copertura alla difesa se si gioca con un mediano davanti e con le due mezze ali chi lo ha stabilito dove sta scritto noi l'anno scorso eravamo disequilibrati perché non avevamo l'uomo da affiancare a uno dei due che fosse ben a sera che fosse reindersi davanti alla difesa e che facesse il compito che avesse il compito di fare da la diga davanti alla difesa non lo avevamo ma se dovesse arrivare fu fanà perché non si potrebbe giocare coi due davanti alla difesa dove è scritto che bisogna giocare con 4 3 3 chi l'ha scritta questa tavola della legge per cui e noi possiamo giocare questa squadra può giocare solo con 4 3 3 dopo due amichevoli che però non vi piace parlarne tanto perché non contano allora amichevoli non contano però questa squadra è già definito che non si può non può giocare col 4 3 3 nemmeno cioè con 4 2 3 1 nemmeno se prende il giocatore che ha mancato l'anno scorso per fare proprio quel tipo di gioco ma poi mister fosse che sarà libero di giocare come vuole lui e di essere giudicato per i risultati sarà libero mister fonseca di essere giudicato dai risultati e non dalle vostre ideologie dal vostro populismo e dalle vostre tavole della legge sarà libero mister fossecca o non sarà libero di essere giudicato dai risultati scendete dal piedistallo scendete dal piedistallo forza mina sempre comunque non